Ben trovati, quattordicesima puntata di Mondo Futsal, l'approfondimento dedicato al mondo del futsal nazionale e territoriale. Ricordiamo le coordinate per interagire, mondofutsal.net oppure youtube.com slash mondofutsaltv. Chiaramente tratteremo tutto quello che concerne il movimento del calcio a 5, non prima però della sigla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, eccoci qui rientrati in studio. È obbligo l'apertura con la serie A1 con questa vittoria fondamentale della Rapido Latina che va a vincere in terra sarda sul campo del città di Sesto, diretta concorrente per la salvezza. Netto il risultato di 7 a 3. Ottima la gara condotta da Pontini che hanno chiuso la prima frazione in vantaggio. Sono poi parsi sempre in grado di condurre la gara in porti. I marcatori sono stati Bacaro e Menini, doppietta per lui ed ancora Maina, Aregliano ed Avellino. Tre punti fortemente voluti da Latina che con questo risultato muove un passo importante e decisivo verso la salvezza, ganciando proprio i sardi in penultima posizione mettendo così l'acqua e sapone Pescara che li precede di due lunghezze nel Mirino. E proprio i pescaresi saranno i prossimi avversari della Tina sabato alle 20.30 al Pale Benchini. Una ghiotta opportunità per scavalcarli in classifica. Ma adesso tradotto nei numeri vediamo come è andata la giornata, come detto la quattordicesima giornata di serie A1. Acqua e sapone, Asti 2 a 2. Lazio, Corigliano 5 a 8. Alte Regolo, Parense, Caos 5 a 4. Fuzza la città di Sestu, Rapido Latina 3 a 7. Real Rieti, Napoli 3 a 3. E vediamo anche quelle che saranno le gare del prossimo turno. Rapido Latina, Acqua e sapone, Fabrizio Corigliano, Fuzza la città di Sestu, Caos, Lazio, Napoli, Alte Regolo, Luparense, Pescara, Real Rieti. Passiamo adesso alla serie B. Ottimo punto guadagnato in esterna dalla Virtus Fondi Calcio a 5. I ragazzi del Presidente Ginepro hanno impattato con il risultato di 3 a 3 in quella di Porto San Giorgio, nelle marche san giorgese Fanalino di Coda. Una bella prestazione è quella degli atleti fondani che sono andati in rete con Frainetti, una doppietta per lui, e Cardone. Nel prossimo turno i Rosso-Bru affronteranno tra le mura amiche del Palasporto di Fondi il Prato Rinaldo che occupa la quinta posizione e che nell'ultimo turno ha perso in casa contro il Porto San Giorgio. Andiamo a vedere i risultati di questo turno in serie B. E allora, Maran, Nursi, Ardenza, Ciampino 9 a 0, Fussal, Aprutino, Civitanova 10 a 2, Fuligno calcio a 5, Olympus a 3 a 7, Atlante Grosseto, Perugia a 3 a 3, Frato Rinaldo, Porto San Giorgio 1 a 3, San Giorgese che è l'altra squadra chiaramente di Porto San Giorgio contro Virtus Fondi 3 a 3. Per questa classifica, Olympus a quota 35, Fussal a Prutino a quota 30, seguono Nursi a 29, Porto San Giorgio 26, Ardenza, Ciampino 23 insieme a Prato Rinaldo, Atlante Grosseto 17 come la Virtus Fondi, Foligno 12, Perugia 11, Civitanova 4, San Giorgese che chiude la classifica a quota 2 punti. Il prossimo turno anche in Serie B sarà il quindicesimo, Perugia a Ciampino, Atlante Grosseto, Foligno, Porto San Giorgio, Fussal a Prutino, Civitanova, Nursia, Virtus Fondi, Prato Rinaldo, Olympus contro San Giorgese. Riflettori ora sulla Serie C1, sfiora l'impresa, la formazione delle Eagles Sapriglia che viene sconfitta di misura 4 a 3 sul sempre difficile campo del Civitavecchia. Tra i protagonisti paterniani, autore di una doppietta e raccioppo in rete anche lui, oltre a Tesei che ha neutralizzato un rigore ai padroni di casa. Continua invece il momento negativo del Mintuno, battuto nettamente 4 a 0 dal Real Castelfontana. Nel prossimo turno i ragazzi del Patrona di Ciaccio se la vedranno al Palaborrelli con gli Anni Nuovi Ciampino, mentre gli Apigliani ospiteranno l'Atletico Civitavecchia. Ma non anticipiamo i temi, andiamo a vedere nel complesso tutti i risultati di questa giornata che nel campionato di C1 era la 19. Albano, Capitolina, Marconi 2 a 7, Anni Nuovi Ciampino, Civitavecchia 2 a 1, Città di Pagliano, Active Network 3 a 5, Civitavecchia, Eagles, Calcio 5 a Figlia 4 a 3, Lazio Calcetto, Atletico Ferentino 8 a 4, Lido di Ostia, Virtus, Palombara 4 a 2, Mirafin, TCP 7 a 3, Real Castelfontana, Mintuno 4 a 0. La classifica di C1, Capitolina, Marconi 50, Virtus, Palombara 43, Lido di Ostia 42, a 37 abbiamo l'Active Network a 31, Anni Nuovi Ciampino, a 28, Ferentino e Mirafin a 27, Civitavecchia, Città di Pagliano 26, Castelfontana, Albano 25, 19 per Mintuno e Civitavecchia, Lazio 17, TCP 9, chiudono le Eagles, Calcio 5 a Piglia a quota 7 lunghezze. Il prossimo turno lo vediamo insieme, Civitavecchia, Albano, Mintuno, Anni Nuovi Ciampino, Eagles, Calcio 5, Civitavecchia, Atletico, Civitavecchia, l'altra città portuale, Virtus, Palombara, Città di Pagliano, Capitolina, Marconi, Lazio Calcetto, Nuovo Atletico Ferentino, Lido di Ostia, Active Network, Mirafin, TCP, Real Castelfontana. Adesso lo spazio dedicato alla Serie C2, si ferma impattando lo Sport Country Club Gaeta in casa della sempre ostica Fortitudo Terracina. 5 a 5 il risultato finale, ne approfitta così il Belletti che balza al comando, vincendo in esterna sul campo della Connect con un netto 4 a 0. Tengono la scia all'Atletico Anzio Lavigno, Corsara Cisterna contro l'FC e la Gymnastic Fondi che regola tra le Muramiche l'altra compagine di Cisterna, ovvero la Vigor con il classico punteggio all'inglese di 2 a 0. Rientra prepotentemente in corsa lo Sporting Giovane Risorse di Mister Paluzzi che vince soffrendo 4 a 3 in casa del fanalino di Coda Città di Marina Minturno. Vittoria importantissima in chiave salvezza del Pomezia in casa della Vis Fondi e del pareggio pilotecnico 4 a 4 tra Real Podgora e Penta Pomezia che chiudono così il programma della giornata. È comunque una classifica condizionata dai diversi recuperi che si disputeranno in questo mese e che daranno un senso più esatto della classifica che andremo a vedere non prima però di aver ripilogato tutti i risultati. F.C. Cisterna Atletico Anzio Lavigno 5 a 7, Città di Minturno Sporting Giovane Risorse 3 a 4, Conect Calcio a 5, Velletri 0 a 4, Fortitudo Terracina Sport Country Club 5 a 5, Gimnastic Studio Fondi Vigor Cisterna 2 a 0, Real Podgora Penta Pomezia 4 a 4, Vispondi Pomezia Laurentum 3 a 4. La classifica come detto Velletri che balza in testa a quota 37 a scapito dello Sport Country Club Gaeta 36, poco dietro c'è l'Atletico Anzio Lavigno a 35, 32 punti per l'altra squadra dei fondi, Gimnastic Studio Fondi Sporting Giovane Risorse 31, Real Podgora 29, Vigor Cisterna 22, Penta Pomezia 20, Vispondi 19, FC Cisterna 17, Conect Calcio a 5, 15, Pomezia Laurentum 13, Fortitudo Terracina 7, Città di Minturno Marina che chiude la classifica a quota 3. Ed ora relativamente a questo girone abbiamo le immagini di Vispondi Pomezia Laurentum, il servizio curato dalla redazione di Mondo Futsal di Fondi. Il servizio curato dalla redazione di Mondo Fondi, Il servizio curato dalla redazione di Mondo Fondi, Grazie a tutti. 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 Andiamo adesso in Serie D partendo dal girone A dove registriamo l'importante vittoria esterna per la United Aprilia sul difficile campo dell'LN1 per 4 a 3. A ve le spiegate anche la diretta inseguitrice la Fortitudo Pomezia che si sbarazza da Reale Latina con un tennistico 6 a 0. La Cimi Latina Scalo invece impatta in casa contro la Priglia, la PR2000 vincono tra le mura amiche anche Città di Anzio nel derby con il Libo Calciacinque ed il Flora che fa su a un'importante gara contro la Virtus Latina Scalo. In ultimo il Falas che spugna il terreno del fanalino di coda R11 Latina con il punteggio anche qui vistoso di 6 a 1. Ma andiamo per gradi, vediamo prima tutti i risultati. Città di Anzio, Libo Calciacinque a 5 a 9 a 6, Flora 92 Virtus Latina Scalo 5 a 4, Fortitudo Pomezia Real Latina 6 a 0, Latina Scalo Cimil PR2000 Aprilia 4 a 4, LN1 United Aprilia 3 a 4, R11 Latina di Lettanti Falasche 1 a 6, turno di riposo per l'atletico Rocca Massima. In conseguenza dei risultati questa è la classifica, United Aprilia 39, Fortitudo Fussal Pomezia 36, Latina Scalo Cimil 28, Real Latina 26, Città di Anzio 23, Flora 92 a 21, Dilettanti Falasche 19, LN1 14, Virtus Latina Scalo 13, PR2000 Aprilia 13, Libo Calciacinque 11, Atletico Rocca Massima 8, R11 Latina chiude con due punti. Andiamo avanti adesso con un servizio, il servizio secondo la scaletta LN1 United Aprilia, il servizio curato a quattro mani da Daniele Porcelli e Valerio Di Prospero. Si gioca la seconda giornata del campionato provinciale di Serie D, il girone offre questo appuntamento proprio inimportante al fancioni, l'Ele Nettuno affronta la United Aprilia Capolistria di questo raggruppamento, squadra schierata al centro del campo. Come poter servire Valente? Non ci riesce, si invola adesso Roma, esce addirittura Ambrosini dalla porta. Adesso è Galieti, il tiro di Galieti, il gol, il gol di Galieti. Lo scambio con Criscuolo, la soglia dall'indietro, adesso la possibilità per Valente, c'è il raddoppio. Ancora Pellegrini, fa tutto da solo, il tiro e la rete, bellissimo gol da parte di Pellegrini, scivolata da parte di Tinari. Pellegrini, la possibilità per il LN1 direttamente in avanti, il tiro c'è nel pareggio, pareggio di Davino. Calcio d'angolo, Troppiani, la palla messa in mezzo, ciccata Criscuolo, il gol di Criscuolo. Lo scambio per Davino, se ne va in mezzo, ma che gol c'è il gol del pareggio con Giallongo al quindicesimo di gioco. Toccare il pallone, Pompili subisce uno sgambetto, c'è la regola del vantaggio, il tiro di Pompili in rete, il vantaggio del United. Pellegrini, sarà lui a calciare questo tiro libero. E c'è la parata di Ambrosini. La classifica lo dice, hanno perso la prima e venivano da 11 o 12 vittorie che conseguono dire. Quindi di tutte queste vittorie il primato non si fa senza motivo. All'andata vinciamo 3-0 e abbiamo perso 4-3. Oggi abbiamo perso 4-3, penso mancavano 2-3 minuti alla fine immediatamente. Primo tempo noi sottotono, ma molto sottotono l'arbitro. Perché non c'è un rigore per noi netto, col fischietto in bocca non dato. Fallo di mano il portiere loro sulla ripartenza. Loro, una grande squadra, cinici, due occasioni, 2-0. Noi forse siamo andati troppo dietro agli episodi, ma l'arbitragio così sarà la settima o ottava volta quest'anno. Si facessero un esame di coscienza quando vengono il sabato qua. Perché noi tutta la settimana, io soffrono già con la febbre a 38, dopo tutta la settimana che sono stato male, loro si sono mettendo un po' la mano sulla coscienza. Nulla toglie all'apriglia, adesso è una grande squadra. Come detto, però noi abbiamo fatto una grandissima partita. Noi dall'anno nuovo siamo ripartiti, come sappiamo. Sì, sì, beh, ci siamo mossi bene al primo tempo. Al secondo tempo loro sono venuti fuori e hanno fatto vedere comunque quello che diceva Emanuele, il capitano del Nettuno, che praticamente la classifica è un po' bugiarda nei loro confronti, in quanto sono secondo me una bella squadra. Nonostante avevano qualche defezione, colgo l'occasione per dire anche noi che avevamo questo problema. Io questa settimana non mi sono allenato, anche lo stesso Bomber di Giorgio con la Bronchite, Pignatia e Lorisci che mancavano, quindi avevamo Cianfanelli anche infortunato. Comunque abbiamo stretti i denti da prima classifica, quale siamo, per mantenere la posizione. Siamo adesso al prossimo turno, il numero 16, Atletico Rocca Massima, Città di Anzio, United, Aprilia, Flora 92, Virtus, Latina Scalo, Fortitudo, Fuzz al Pomezia, Libo, Calcio a 5, Latina Scalo, Cimil, TR2000, Aprilia, Lele, Nettuno, Real Latina, R11 Latina, direttanti Falasche che osserva un turno di riposo. Passiamo adesso al girone B della Serie D, riprende in largo il Real Terracina che vince la gara casalinga sul Città di Pontinia per 5 a 2. Cade in casa la seconda della classe, vale a dire l'Accademia Sport che cede le armi al cospetto di una più determinata DL Formia. 6 a 5 il risultato a favore del team allenato da Tuglio Vellucci che si conferma in serie positiva e a terza forza del campionato. Vince l'Olympus in modo netto sui nuovi orizzonti e divisione della posta 4 a 4 tra Atletico Sperlonga e Real Fondi. Il Suio vince in casa del San Giovanni Spigno, mentre è sospesa la gara tra Sporting Terracina e Formia 1905. Vediamo adesso il quadro dei risultati. Accademia Sport, DL Formia 5 a 6, Atletico Sperlonga e Real Fondi 4 a 4, Olympus Sporting Club, nuovi orizzonti 10 a 2, Real Terracina calcia 5, Città di Pontinia 5 a 2, San Giovanni Spigno, Suio 5 a 7, come detto sospesa, Sporting Terracina calcia 5, Formia 1905. La classifica, Real Terracina calcia 5 a 30, Accademia Sport 25, DLF Formia 22, Olympus Sporting Club 21, Sporting Terracina 20 a 19, Suio e Real Fondi a 16, Città di Pontinia e Formia 1905, San Giovanni Spigno 14, Atletico Sperlonga 9, nuovi orizzonti a 4. E la prossima turno, Suio, Atletico Sperlonga, DLF Formia, Città di Pontinia, Real Fondi, Olympus Sporting Club, Formia 1905, Real Terracina, Accademia Sport e San Giovanni Spigno, nuovi orizzonti, Sporting Terracina, calcio a 5. Bene, con questo si conclude qui il nuovo appuntamento con Mondo Futsal, grazie per la cortesia attenzione, vi rimando alla prossima puntata, non mancate! Grazie per la corte! Grazie per la corte!